buongiorno ragazzi e benvenuti alla prima delle poesie che affrontiamo del grande poeta ligure eugenio montale questa poesia si intitola i limoni è una poesia nella quale abbiamo condensato una delle primissime poesie che montale scrive nella quale ha condensato un po la sua visione della vita la sua possibilità che nella quotidianità emerga dalla domanda di significato una risposta una risposta che però sfugge al poeta montale sarà il poeta della domanda della grande domanda e della risposta che è lì c'è viene riconosciuta ma non viene fino in fondo compresa capita però questa domanda c'è cioè questa risposta c'è ed è nella quotidianità in questa poesia montale ritrova la risposta in un momento in cui i limoni con la loro solarità concedono al poeta di intravedere il varco all'interno della della muraglia che gli impedisce impedisce la sua vita di essere soddisfatta ma andiamo a leggerla insieme come al solito tratto con il brano tratto dal vostro libro di testo allora perché i limoni limoni è all'interno di orsi di seppia è un brano scritto intorno al 21 22 e apre la raccolta poetica è una vera e propria dichiarazione di poetica cioè una poesia con un lessico molto basso molto popolare e con un contenuto forte di 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 nel raccontare un momento privilegiato che il poeta vive nella sua quotidianità sta camminando come capiterà in altre poesie in mezzo al paesaggio ligure lì coglie un istante la possibilità di capire il senso della vita però a un certo punto questo senso sfugge in questa poesia è anche una poesia nella quale montale fa una serie di riferimenti al grande poeta che è sul viale del tramonto nell'epoca in cui emerge montale che è gabriele d'annunzio no vi ricordate quando abbiamo fatto d'annunzio abbiamo detto che d'annunzio per montale non può essere un nemico e basta come era per tutti i poeti di quest'epoca ma deve essere attraversato è un poeta che ha fatto talmente tante tante cose ha attraversato la storia della poesia facendo di tutto per cui non lo si può aggirare bisogna passargli in mezzo tenere di buono ciò che aveva criticarlo fortemente ma anche trattenendo ciò che di buono lui ha fatto il riferimento d'annunzio è subito all'inizio allora leggiamola insieme ascoltami i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dei nomi poco usati bossi ligustri o accanti io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni prima strofa dichiarazione di poetica ascoltami è un riferimento d'annunzio il poeta inizia rivolgendosi a un lettore esattamente come faceva d'annunzio nella pioggia nel pineto quando si rivolge a ermione se vi ricordate quindi il riferimento d'annunzio è evidente ma è evidente anche successivamente perché dice i poeti laureati cioè i poeti che indossano il lauro i grandi poeti vati i poeti che avevano grandi cose da dire si muovono soltanto fra piante dai nomi poco usati vi ricordate che d'annunzio l'avevamo definito l'archeologo dei vocabolari un poeta che va a ricercare la parola più desueta meno utilizzata più specifica per dire una cosa per impreziosire la sua poesia infatti montale si contrappone lui invece utilizza un lessico popolare va a cercare le piante più comuni che sarà per l'appunto l'albero dei limoni in liguria mentre invece d'annunzio dice usava alberi dei nomi poco usati gli acranti i bossi ligustri subito montale decide di abbassare il livello espressivo lo stile e dice io per me no modo molto colloquiale dire io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla vedete che è subito un'immagine popolare io voglio fossi erbosi dove si ritrovano pozzanghere in cui i ragazzi agguantano qualche sperduta anguilla ok le viuzze sopra i ciglioni i ciglioni sono le strade che corrono lungo i fossi che scendono fra i ciuffi delle canne e da un certo punto ti ritrovi in un orto e sei in mezzo agli alberi dei limoni quindi il poeta abbassa subito drasticamente lo stile a un livello colloquiale e utilizzando un lessico popolare pozzanghere anguille viuzze ciglioni canne vedete come si contrapone immediatamente al dannunzio che aveva appena citato ai grandi poeti vati subito dopo abbiamo una seconda strofa nella quale montale ci racconta l'ambiente in cui si trova la natura ligure il paesaggio ligure così importante per lui questo paesaggio anch'esso descritto in un modo assolutamente popolare però è descritto viene descritto in questo paesaggio viene descritta una natura che si si prepara a svelarsi è una natura in cui sta succedendo qualcosa di magico meglio se le gazzare degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove e i sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta qui delle divertite passioni per miracolta c'è la guerra qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza e dell'odore dei limoni la natura avvolge il poeta ci sono le gazzare degli uccelli che devono è meglio se si spengono c'è a un certo punto gli uccelli che svolazzano e vociano in cielo a un certo punto è come se si spegnessero perché più chiaro così si ascolta il sussulto dei rami nell'aria che quasi non si muove si sente appena appena un fruscio di rami si sente quasi un odore che fa fatica a staccarsi da terra e in questa atmosfera il poeta ritrova se stesso piove in petto una dolcezza inquieta vedete come montale non è non è il dannunzio della pioggia nel pineto che è il super uomo che mano a mano che va avanti diventa essere vegetale e percepisce la natura come un tutt'uno con se stesso è un poeta che prova una dolcezza inquieta quasi paura sente di stare bene ma è inquieto non è più la certezza di dannunzio il grande poeta che aveva delle cose da dire montale il poeta delle piccole cose della paura dello svelarsi della realtà quasi che intimorisce quindi usa uno simoro dolcezza inquieta per miracolo tace la guerra la guerra non è quella che è stata appena combattuta la prima guerra mondiale la guerra interiore dell'uomo in questo momento tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza la guerra tace e noi possiamo anche noi poveri noi poveri anche qui è una contraposizione ad annunzio noi poveri poeti possiamo grazie all'odore di limoni prenderci la nostra parte di ricchezza vedete come anche nella seconda strofa prosegue il confronto con d'annunzio e il d'annunzio della pioggia nel pineto d'annunzio della metamorfosi con la natura in confronto al montale che invece nella natura ci entra a piccoli passi senza pretese con una dolcezza che prova ma che è inquieta infatti subito dopo nella nella terza strofa rigia riaccade qualcosa ma in questo caso non è la metamorfosi come era per ermione e d'annunzio ma è la metafora del varco inizia la terza strofa con un altro riferimento alla pioggia nel pineto vedi si rivolge ancora al lettore come d'annunzio aveva fatto con ermione chiedendogli di vedere e la terza strofa è la strofa della metafora del varco vedi in questi silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura il punto morto del mondo l'anello che non tiene il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità lo sguardo fruga d'intorno la mente indaga accorda disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità metafora del varco a un certo punto in questa natura che provoca una dolcezza inquieta sembra che le cose si abbandonino cioè si mollino si lasciano andare sembra che stiano per tradire l'ultimo segreto cioè si sta sfaldando il muro dell'impossibilità di conoscere la realtà le cose si abbandonano mollano i loro larci si stanno per svelare la verità si sta per svelare e quindi montale subito fa una serie di esempi di che cos'è la metafora del varco la metafora della realtà che sperde la sua inconoscibilità ma è che è un errore perché la realtà è fatta per non essere conoscibile per montale ma a un certo punto c'è come un errore uno sbaglio della natura il punto morto del mondo l'anello che non tiene cioè l'anello di quella catena che ci tiene legati che a un certo punto si molla si spacca il filo da disbrogliare per montale utilizzerà spesso la metafora del filo imbrogliato per descrivere la vita il filo si sta sbrogliando e finalmente ci possiamo trovare in mezzo la verità il poeta sta per avere l'illuminazione sta per saper trovare in mezzo a questo a questa natura che si sta tacendo che nel quale emerge il profumo dei limoni il profumo che dilaga la sua mente ci prova lo sguardo si guarda intorno la mente cioè il tentativo razionale la mente cosa fa accorda disunisce indaga cioè la ragione che cerca di capire fino in fondo perché siamo al mondo perché quella la grande domanda che fa che fa montale perché ci siamo indaga cioè cerca di capire accorda cioè cerca di mettere insieme disunisce cerca di separare quando il giorno più languisce quindi sul far della sera in questi silenzi quelli precedenti che ci aveva già descritto i silenzi delle cose si vede in ogni ombra umana una qualche disturbata di divinità cioè anche l'essere umano che si intravede le cose fatte dall'uomo sembrano essere rappresentazioni di una qualche divinità che si sta svelando quindi è la siamo arrivati alla terza strofa dichiarazione di poetica natura che si prepara un poeta che sta per entrare finalmente nel mezzo della verità la quarta strofa è quella del ritorno alla realtà il poeta abbiamo detto montale non riesce mai a capire fino in fondo gli viene sempre a mancare lui non dice che la risposta non c'è ma viene sempre a mancare l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase la pioggia stanca la terra di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case la luce si fa avara amara l'anima quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto scrociano le loro canzoni le trombe della solarità questa strofa è divisa in due la prima parte c'è una vera e propria illusione che manca il ritorno alla realtà lui dice ma non ci sono arrivato a capire il tempo ne ha riportato nelle città rumorose dove vediamo l'azzurro solamente in mezzo fra le cime delle case dove la pioggia non è nutritiva non è non rende felice la terra la stanca in città il tedio dell'inverno si affolla sulle case la luce è poca quindi abbiamo perso il momento di comprensione della realtà questa è una grande metafora di come invece la vita quotidiana ci riporta il tedio la difficoltà la noia l'incomprensibilità eppure la possibilità rimane c'è la speranza la ricerca di montale non smette mai ma dice un giorno forse se anche camminando in queste tediose città guarderemo in un portone che è stato chiuso male e vedremo il giallo dei limoni in mezzo in una corte come un miracolo in mezzo a questa città grigia monotona dove non c'è l'azzurro dove non c'è luce appariranno nuovamente i limoni il gelo del nostro cuore si disferà risentiremo il caldo e in petto ci scrosceranno di nuovo le trombe d'oro della solarità del sole cioè un richiamo a continuare la ricerca vi faccio notare in conclusione semplicemente il linguaggio di montale che pur in una poetica estremamente preziosa perché ci sta raccontando attraverso quasi un ermetismo una difficoltà a comprendere nelle metafore che lui ci dice quello che è il suo stato d'animo il suo vivere questa ricerca continua però utilizzando un linguaggio assolutamente popolare uno stile basso montale cerca di far combattere di far stridere un linguaggio molto prezioso dei temi molto preziosi con un linguaggio invece popolare e con delle immagini assolutamente quotidiane per darci la testimonianza della continua lotta fra la realtà e l'apparenza vi lascio al vostro studio e ci vediamo alla prossima poesia